Allora, signori, passiamo al numero 13. Facciamo direttamente l'aria di l'uomo. Ce la puoi sentire, Marta? Sì. Che tempo hai in mente? Un po' ho camminato. Un po' ho camminato? Proviamo. Pensieri a consiglio, pensieri a consiglio, a consiglio, potenze dell'alma guidatevi in calma in tanto periglio, in tanto periglio. Pensieri a consiglio, pensieri a consiglio, a consiglio. Scusa, eh. Allora, qui... Scusami, Marta, però... Aspetta. Il numero è... Chi è che parla? Ah, tu! Ah, sei tu, è vero! Ma scusate, allora il testo dice mentre naufragando... Mentre naufragando, tra i suoi pensieri, l'uomo infelice infelice... Ok. Troppo... Questa mi sembra proprio danzettina. Ok. Faregli un... Non so. Ok. Perché ha anche un consenso di... Di... Di ansia. Di ansia. Si. Lui sta cercando, sta chiamando i consigli, no? Proviamo. Vai. Pensieri a consiglio, 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 potenze dell'alma, guidatemi in calma, in tanto perillo, in tanto perillo. Pensieri a consiglio, pensieri a consiglio, pensieri a consiglio, consiglio, pensieri a consiglio, consiglio, pensieri a consiglio, pensieri a consiglio, consiglio, pensieri a consiglio. Pensieri, pensieri a consigli E' sempre più... I funzionisti piace? Sì, sì. Facciamo una foto, dai. Va bene.